Numerose le innovazioni relative al settore ambiente nel comune di Castellabate è stata sviluppata infatti una modifica complessiva dell'organizzazione comprendente le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure per sviluppare, riesaminare e migliorare la politica ambientale sul territorio. Il tutto è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l'aula consigliare del comune di Castellabate. In questo momento parte una nuova organizzazione con un nuovo soggetto gestore che è SADIM che si è giudicato in questi servizi di raccolta e conferimento nel comune di Castellabate. È proprio in virtù di questa offerta, di questa riorganizzazione che dal 24 prossimo partirà questa nuova modalità, questo nuovo sistema di raccolta. Insieme al soggetto esecutore, attuatore di questo progetto parteremo con una vera e propria campagna di informazione capillare con i cittadini, li raggiungeremo con una lettera nella quale spieghiamo queste modalità, i nuovi sistemi di raccolta, li raggiungeremo attraverso questi incontri che faremo nelle frazioni del comune di Castellabate cercando appunto di chiedere la collaborazione, la diffusione, la divulgazione soprattutto dei residenti, quindi degli operatori, delle strutture, ma soprattutto perché grazie a loro dobbiamo trasferire questo modello anche agli ospiti, a chi non vive a Castellabate ma decide di venire in vacanza, di venire strutture o ha deciso nel tempo di costruire una seconda casa e quindi diventa a pieno titolo un nostro concittadino quindi al quale trasferire queste notizie e abituarsi all'idea che Castellabate ha lanciato una nuova sfida e vuole raggiungere performance importante.